Per circa due anni hanno frodato il fisco sfruttando il meccanismo dell'accollo dei debiti tributari e per evitare di essere scoperti cambiavano numerosi sedi, Padova, Novara, Roma. La Guardia di Finanza di Padova però è riuscita a smascherare la truffa e così una società padovana che opera nel settore della logistica per la grande distribuzione è finita nei guai. Le fiamme gialle hanno sequestrato preventivamente 1.158.000 euro di beni e denunciato tre persone, due amministratori di diritto residenti in Lombardia e un amministratore di fatto che altri non era che un dipendente della società residente a Ravenna. La società, che forniva personale per servizi di facchinaggio e spostamento merci, era stata segnalata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Padova che nel 2018 aveva notato che la ditta per sistemare la sua situazione debitoria aveva iniziato a utilizzare in compensazione crediti tributari di terzi, un sistema previsto per legge, peccato però che i crediti fossero inesistenti. Inoltre i crediti venivano messi a disposizione da società intestate a prestanome che nulla avevano a che fare con la ditta in questione. Dopo una rapida indagine, i finanzieri insieme alla procura di Padova hanno deciso di sequestrare beni per un valore corrispondente all'IVA che era stata indebitamente compensata con questo sistema fraudolento.